A Napoli riparte la cultura. Nella giornata di sabato 13 giugno c'è stata la riapertura del Museo Filangeri e del Tesoro di San Gennaro, un appuntamento importante per il rilancio del settore turistico dopo il lockdown, per dare un forte segnale alla città di ritorno alla normalità, soprattutto nel distretto museale di cui fanno parte i due istituti culturali. Una riapertura fortemente evoluta dal direttore Paolo Iorio che ha espresso il suo desiderio di ripartire. Ripartiamo, riparte la cultura, centro fondamentale secondo me non solo dell'economia interiore ma anche dell'economia indotta. Tutto quello che ruota intorno ai musei è un'industria, dell'industria del turismo, della cultura ed è anche un modo, un segnale importante di ripartire, ripartendo proprio da quella che è l'essenza dell'uomo, la cultura. Ritengo che sia un momento importante dove non bisogna piangersi addosso, dove il passato è passato, dove dobbiamo rimboccarci le maniche e dare sostanza alla nostra ripartenza in tutti gli ambiti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!